probabilmente questo video verrà visto da me e da altre tre persone in totale però non c'è problema questa sera c'è la finale ragazzi quindi carichi dai speriamo in bene noi ci rivediamo in un prossimo video vado a casa sono già casa comunque ragazzi questo video partiamo parto con il dire che questo video doveva essere registrato prima e all'aperto vi faccio vedere perché lo sto registrando adesso in casa però bonus che sarà diviso in tre parti allora ok come potete ben vedere era un video un po rumoroso fastidioso quindi ho preferito rifarlo e lo rifacciamo adesso quindi ragazzi ciao a tutti sono davide nico oggi parlando di pokemon go parliamo del go fest parliamo degli ultimi shiny catturati da me di recente e facciamo magari anche un'evoluzione adesso vediamo dopo comunque avremo subito la schermata di pokemon go il sito ufficiale di pokemon go live che ci dice maggiori dettagli sul pokemon go fest 2021 e anticipazione con un nuovo sblocco dell'ultra bonus l'ultra bonus che ci piace tanto ci è sempre piaciuto ha sempre spaccato su tutto e speriamo sia così anche quest'anno allora io non vi dirò ragazzi tutto quello che si è scritto in questa pagina altrimenti verrebbe un video noioso lungo brutto e basta vi metto il link in descrizione andate a leggere tutti tutti i dettagli nel link in descrizione e oggi parliamo delle cose che secondo me sono un pochino più interessanti ovviamente la cosa può essere soggettiva nel senso che se uno è interessato ad avere il tal pokemon con la tale mossa o comunque sentire la musichetta nel gioco in un certo modo insomma un po soggettiva comunque parliamo delle cose che mi hanno colpito di questo questi nuovi dettagli riguardo al pokemon go fest allora prima cosa ragazzi secondo me interessante ci saranno sei scambi speciali al giorno da poter fare molto molto interessante questa cosa va dal 16 di luglio fino al 19 di luglio quindi in corrispondenza con il go fest più un giorno aggiuntivo praticamente ora c'è da capire se saranno tre giorni totali o tre più uno dato che comunque sarebbe 16 17 18 e 19 compresi quindi probabilmente saranno quattro giorni per poter fare sei scambi per un totale di 24 scambi speciali questo molto interessante staremo un pochino a vedere se saranno quattro o tre giorni ma magari saranno quattro speriamo in bene dai 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 speriamo in bene poi altra cosa leggermente interessante ma che ha un po stufato secondo me pikachu con il cappellino di meloetta o comunque ispirato a meloetta che sarà disponibile con il go fest in concomitanza con il go fest è possibile anche shiny un altro pikachu con il cappellino ne avevamo bisogno lo dico in tutti i video boh personalmente no ma comunque piacciono tanto e a niantic piacciono tanto quelli che giocano un po meno ma comunque ce l'abbiamo ce lo teniamo poi terza cosa abbastanza interessante ragazzi ci sarà da scegliere tra pikachu pop star o rock star perché il cappello di meloetta non andava bene comunque allora in questa parte non dirò tutto perché comunque ci sono garde wire e flygon con varie mosse che sono sincrumore geoforza e anche loro con i cappellini di meloetta quindi evitiamo di parlare nei dettagli di questa cosa ma comunque la scelta tra pop e rock cosa fa cambiare all'interno del gioco fa cambiare innanzitutto le musichette all'interno del gioco che personalmente io non ascolto mai gioco sempre con l'audio spento però vabbè se uno interessato può avere questa questa musica diversa nel gioco cambierà a seconda della scelta tra pop e rock poi ci sarà anche una posa per l'avatar insomma che sarà o pop o rock c'è da vedere come sarà e quale sarà la più bella da scegliere perché poi le pose si scelgono in base all'estetica penso e poi ci sarà anche qui un pikachu pop o rock star quindi staremo a vedere quali saranno se ci potranno trovare cromatici questi ma non ho letto nulla di queste cose magari non ci sarà shiny anche perché saranno teoricamente sarà una sola possibilità di trovarlo però ci sarà anche le foto ci saranno anche le foto il photobomb salteranno fuori comunque pochi check in teoria secondo quello che c'è scritto qui magari poi ci sarà shiny ci sarà la possibilità di trovarne tanti in giro e fare tanti check boh ma sarebbe comunque un casino perché c'è già pikachu con il cappello di meloetta non lo so ragazzi staremo un po a vedere ma comunque a parte tutto questo un'altra cosa molto interessante ci sono gli habitat che cambiano ora non ricordo anzi ce li ho scritti qua cosa sto dicendo ci saranno i vari habitat che sono giungla montagna del deserto spiaggia oceanica e grotta si partirà alle 10 di mattina sono quattro habitat quindi verranno ripetuti due volte tutti perché l'evento va dalle 10 alle 18 vediamo come saranno questi habitat se saranno pokemon interessanti nei vari habitat e vedremo quale sarà soprattutto il migliore habitat poi proseguo con il sito allora sblocco dell'ultra bonus eccoci qua allora ci saranno ragazzi semplicemente un determinato numero di sfide come negli anni precedenti da fare da sbloccare per poi sbloccare il tutta la parte le varie parti dell'ultra bonus allora prima parte tempo segnatevi questa parola tempo ragazzi completando 8 sfide globali si accede alla prima parte dell'ultra bonus che va dal 23 luglio al 3 agosto quindi successivamente al go fest ovviamente e dice attenzione il flusso del tempo sarà interrotto i pokemon provenienti da varie ere appariranno più spesso boh io stavo pensando addirittura alle ultra creature però sarebbe veramente strano magari una cosa che riguarda il po che le generazioni precedenti boh staremo a vedere cosa vorrà dire questa cosa ma comunque tempo ragazzi avete già probabilmente capito che pokemon di che pokemon si tratta poi seconda parte spazio tempo spazio ragazzi segnatemi anche questa cosa bisognerà completare in 8 sfide in più rispetto alle 8 precedenti e si terrà dal 6 agosto fino al 17 di agosto quindi altri 10 11 giorni e ci saranno pokemon provenienti da vari luoghi e lo spazio risulterà distorto boh staremo a vedere anche qui sblocco dell'ultra bonus terza parte 24 sfide globali quindi 8 in più rispetto alle 8 e 8 16 precedenti ragazzi terza parte tanti tanti punti di domanda io qui ne ho sentite di tutti i colori ragazzi dato che comunque i pokemon della prima e della seconda parte sono di alghe palchia che probabilmente metteranno anche shiny però non si sa staremo un po a vedere dato che comunque a fine anno ricordo che esce il remake della quarta generazione per nintendo switch che è diamante splendente perla una cosa o invertiti adesso non mi ricordo più i titoli comunque escono sti remake della quarta generazione di diamante perla e quindi io pensavo che di alghe palchi a shiny se li tenessero in qualche modo per lanciare poi il gioco a fine anno se escono prima tanta roba ma strana pare più strana questa cosa staremo un po a vedere e per la terza parte con i punti di domanda tagliando corto ragazzi molti parlano di archeas so che anche voi dite arceus anche io lo dicevo però si dice archias o comunque una roba del genere molti parlano di questo pokemon e io non sono troppo convinto in realtà perché comunque dopo di alghe palchia c'è ghiratina che però è stato rilasciato nelle varie forme shiny eccetera boh ragazzi staremo un po a vedere cosa succede voi cosa ne pensate dismelo nei commenti e adesso basta parlare di tutta questa roba vi ricordo che c'è il link in descrizione per vedere tutte le news e tutte in formato scritto senza vedere me che parlo che magari faccio anche della confusione andatevi a vedere per tutti tutti i dettagli ragazzi adesso apriamo il gioco perché vi faccio vedere un paio anzi tre shiny che ho trovato di recente molto molto interessanti e magari facciamo anche un'evoluzione perfetto ragazzi sto aprendo il gioco vai vediamo di fare qualche check se c'è qualcosa di interessante allora pikachu con i palloncini e con il 5 in mezzo che ricordo ovviamente il quinto anniversario ragazzi eccoci qua allora niente shiny direi di aprire subito il box perché le cose interessanti da vedere sono qui ragazzi andiamo a mettere il filtro cromatico e a parte questo slowpoke che mi hanno scambiato ieri sera tra l'altro per un pikachu con i cappellini che ho gentilmente offerto a una ragazza che saluto ciao cara allora abbiamo due bellissimi darumaka e un pikachu con i palloncini e con il 5 che ho chiamato addosso e l'ho messo come compagno per fare per flexare lo shiny ragazzi questo è maschio me lo hanno scambiato e a me piace di più il maschio perché la coda fatta in questo modo piace di più ma comunque anche la femmina era molto bellina pokemon secondo me assolutamente da trovare con questi palloncini con i 5 in mezzo del quinto anniversario molto molto bello meno male l'abbiamo trovato e cioè in realtà io ne avevo trovato uno l'ho scambiato alla ragazza e adesso me ne sono fatto scambiare un altro e via quindi rimaniamo con questo pikachu con i palloncini nel box shiny e adesso abbiamo questi due darumaka shiny che sono entrambi abbastanza scarsi comunque chi se ne frega per fare l'evoluzione chiaramente c'è lo shiny e adesso volevo fare un'evoluzione ragazzi perché io non ho ancora l'evoluzione di darumaka però non farò evolvere lo shiny ma farò evolvere un darumaka 96% visto che comunque anche abbastanza valido come tipo fuoco e mi manca nel pokédex ho tipo 1500 caramelle quindi devo anche fare il lucky il fortunato di darumaka ma aspetterò il futuro con qualche scambio eccetera visto che le caramelle sono tante per l'evoluzione le avrò sempre quindi senza parlare troppo facciamo evolvere questo darmanitan questo darumaka che diventa darmanitan 96% e vediamo questa evoluzione semplicissima che voi sicuramente avrete già fatto ragazzi eccolo qua che salta fuori che bellezza tra l'altro anche shiny è molto molto bello non vedo l'ora di fare l'evoluzione lo registro nel pokédex così lo rivalutiamo un secondo giusto per farvi vedere che è un 96% con 15 attacco molto bello molto molto bellino rocco denti psichico direi che non so le mosse giusto dopo ci controllo e metto le mosse fuoco ovviamente cancelliamo il nome gli scriviamo 96% così siamo belli che precisi ragazzi io direi che non ho altro da farvi vedere ci sono un po di pokemon catturati ieri sera e oggi quindi poca poca roba noi direi che ci rivediamo in un prossimo video ditemi nei commenti cosa ne pensate di tutto la questione go fest ultra bonus se parteciperete se secondo voi nella terza fase dell'ultra bonus salterà fuori davvero archias o un altro pokemon ditemi un po' quello che pensate voi e noi ci rivediamo in un prossimo video un saluto da davide nico e alla prossima ciao ciao